Finali provinciali questa mattina al Palazzetto dello Sport di Canicattì, la Verga contro altre due scuole della provincia di Agrigento va in cerca dell'accesso alle fasi regionali. Siamo all'epilogo di questa manifestazione organizzata direi molto bene anche dal provveditorato. Queste finali già hanno iniziato veramente bene. Sono iniziato con l'auspicio di dare uno spettacolo anche al pubblico perché le ragazze stanno mettendo un impegno che va oltre le loro capacità tecniche. Sicuramente mostrano ancora una volta determinazione, uno spirito di gruppo che ci ha portati adesso in finale. Quali altre due formazioni sono impegnate oltre alla vostra qui questa mattina? Sì, oggi vedono impegnate questa finale sia la Porta in Bedo che la Vivaldi e la Filippone San Giovanni Gemini. È una finale che come tutte le partite ha un sapore particolare per le ragazze che hanno vissuto con molta emozione anche questo incontro che poi è veramente difficile anche per loro da poter sostenere.